Fu il primo video trasmesso da MTV 40 anni fa. C'era anche Trevor Horn, uno degli autori a Ravenna, per Imagine Action, il festival del videoclip. Sul palco anche Guccini, Venditti, Robby Facchinetti, Neck, Elisa, Peluti, Romancino, ma a spuntarla è stato lui. Il vincitore è Fabio Rovazzi! Molto più di un videoclip, quello di Faccio Quello Che Voglio, un cortometraggio di 9 minuti con Cracco, Morandi, Ramazzotti, Boldi, Briatore, Leotta, Fabio Volo, Rita Pavone, Albano ed altri. Io e tutto il mio team, che tra l'altro ha perso capelli, fegato e tutto il resto, ci siamo messi, abbiamo messo in piedi questo video assolutamente anti-economico a livello discografico, cioè abbiamo perso tutto, però è stato un investimento a livello di immagine. La popolarità di Rovazzi, classe 94, è arrivata a tutti, non solo giovani ma anche nonne e nipotini, persino i più piccoli. I bambini che ti dicono? Ma i bambini, va bene, perché molti non parlano. Come non parlano? No, molti sono, devono ancora sviluppare l'uso della parola. Con questo è un'altra parola. Con questo è un'altra parola. Ciao